due fantasmi con sembianze umane mandati da un tribunale supremo devono giudicare un comune mortale dopo dure lotte i fantasmi desisteranno tra poco che il gioco cominci l'episodio di questa sera di un salto nel buio la nostra serata insieme è terminata vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 20 e 30 con sesso e volentieri una commedia con johnny d'orelli ora auguro a tutti un buon proseguimento con i nostri programmi regionali e vi do appuntamento a domani